Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video, io sono Karolishensteam e oggi con noi ci abbiamo il buon Capitan Darty, saluta! Buongiorno signori! Oggi ragazzi faremo la reaction ai vostri canali che avete inviato su Instagram E niente raga Se volete comparire nei vostri video così in cui reagiamo ai vostri canali per un secondo episodio facciamo così Allora Per un secondo episodio il tuo video deve raggiungere i 25 like 20 dai 20 Sì 20 vediamo quanto arriva 20 Mentre per il mio video che è sempre uscito dal canale abbiamo registrato Allora vi dico no ragazzi se non avete visto se non siete in questo video sarete nel mio video Qui ha reaccetto pure Cardo ragazzi quindi se volete vedere la reazione di Cardo Dovete vederlo Al vostro canale dovete andare a vedere il video Link in descrizione Allora E niente ragazzi iscrivetevi su Instagram Mandatevi Mandateci i nostri canali Dicevo per Mentre sul mio canale raggiungiamo I 50 like Va bene per il suo canale 50 per il mio 50 subito Il primo canale è Wow L'evento di Fortnite Alle 20 e se non ci sarà A lui ci sarà in live alle 20 Ancora quante volte sta dicendo video in questo Se non ci sarà sicuramente ci sarà il video ovviamente no Ovvio se non c'è uno c'è l'altro Vi invito a lasciare like Iscrivervi al canale Condividere questo video con tutti i vostri amici Tanto lo sai che non lo farò Nessuno lo fa Non è che nessuno lo fa Perché condividono i video con i suoi amici Editato con PowerDirector Notare Beh a parte i 3 like e i 5 I 3 dislike e i 5 like Noni Ciao Allora rega C'è una classica C'è una classica C'è una classica C'è una classica L'evento sicuramente è stato fermato anche dal timer Che c'è all'agenzia Verrà fatto il 15 giugno alle ore 20 Ok si stavi spiegando in pratica Che è organizzato Ok Andiamo un po' avanti perché se parla squasso Cioè non c'è nessun montaggio Andiamo avanti In questo video so solo parlare C'è un video in cui giocano Ma si è mai fatto Ah no è un tipo bordo bislacco Ah no 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 spoiler via via Allora diamogli un voto Comunque come immagino un profilo C'è un altro video Guardiamo il suo video più popolare Un video magari dove gioca Video a caso per Ale Clasher Guardiamo questo E a caso per Ale Clasher Eh vabbè Anche per Tutti like Due contro due dislike Due dislike C'è solo le crash che fa Buh 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 C'è solo le Buh C'è Gigo C'è Gigo C'è Gigo Tu sei capitano scarso Tu sei capitano scarso Io vado a cambiare il nome del canale E tu sei Tu flim Team Io sono tu flims Team La team De la team Team Imparo l'inglese con L'ha fatto apposta E oggi dovete andare a Sfartire Sì Tutti in verità Di questi 33 dislike Figa 141 commenti E infatti Fallito Rega Ho fatto vedere Sto video La mia sorella di nano Ha detto la sua prima parola Fallito Fatti i commenti di qualità A parte il commento Di Ale Clasher A stagione toccare TFT C'è qualcuno Che mi caga in questo mondo E vabbè Ci sarà un hashtag Ah c'è pure Venuto dalla cantina Sì Tutti con Non toccare TFT Ragazzi Andate in questo video Vai sotto Ti prego Non toccate I TFT Ci sarà un hashtag Non toccate Darti Vai sotto Vai sotto Voglio leggere Tutti i commenti Adesso lo scrivo anch'io Dai Darti sei il migliore Oh Maria Insalata Scrive Darti sei il migliore Non è vero Sono i ciuffi Maria Insalata Brava Maria Insalata Vabbè Ancora Darti non si tocca Io invece Darti non si tocca Io quanti ne ho invece Lui ne ha Altro sera C'erano un miliardo di persone Che scrivevano Darti non si tocca E spammavano E tipo Lui ha eliminato Tutti i commenti Darti non si tocca Andrax non si tocca I TFT non si tocca Sì anche a me Me ne ha tipo Tolti due Beh passiamo al prossimo canale Che stiamo Sì dai Ale Clasher ha scritto Dissatemi tutto Ale Clasher Dissatemi tutto Lui già C'ha 6.000 iscritti Non gliene frega nulla Beh lui c'ha 6.000 iscritti Infatti Vai 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 sul prossimo Ragazzi potete insultarlo Però non facendo Sì andate tutti A insultare il ciclo Sì sono fallito Guardiamo questo Cosa 22.335 visualizzazioni Nani Vabbè guardiamo su Come si rasconde La faccia di Spongebob Una piadina Loud Oh non si sento una minchia A parte A parte Aspetta Io Chiedo Poi Poi vedere se c'è il copyright Ragazzi come è stato Spero Cazzo C'è il copyright Dimmi di Oh no Non credo Ah no Ok ok Un video particolare con E a te una volta che hanno dato il copyright E allora Vuoi raccontare tu oggi cosa faremo Per la casa Lo dico gli aspoi Praticamente I tre like e i tre dislike paralleli Ma è vero Cosa ci sarà Secondo te cosa ci sarà Andiamola a scoprire Subito insieme Ma io vi chiedo Ma gli aspetta Eh What the fuck Eh Aspetta Andiamola Ma gli aspetta Ma gli stava succhiando le palle Non si dicono ste cose d'arti Però io vi chiedo Un pollice di su Iscriviti al canale Sto portando questa nuova serie Tipo cosa c'è nella Hai lasci un like Secondo te com'è Com'è Con molti livelli Non solo parkour Vabbè Qua il segno È un parkour Vediamo un segno Ah Ok allora Siamo Ho visto Che lui ha stoppato La registrazione Tipo di Robiden Quindi non è un taglio di Per me è qualitoso Per me è qualitoso Ma Non saprei Abbiamo trovato Ma prima non abbiamo detto Se era qualitoso Ah e le Sei qualitoso Mi dispiace Mi dispiace Vai andiamo avanti Infinity Chris E tu gli amm Vai andiamo avanti Ma per me è qualitoso Vai Subito Sì dai diamo 6 Iscrivetevi Fatelo arrivare A 5 Infinity Chris Fateli arrivare A 5 Mi raccomando E quelli che non sono qualitoso Censurano Raga fate arrivare Infinity Chris Ai Qui c'è il tiscro Vabbè andiamo avanti Live con 15 iscritti 14 Ma Ma è tuo amico lui Sì Sì bro Eeeh Eeeh Ma è un po' Sì Ho un video qua No c'è No 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 Mi dispiace no No mi dispiace bro Ditti neanche No Non sei Non ti posso dir di te Prossimo Non è calzoso Mi dispi Non sai Aspetta ma hai detto Ha detto il suo nome Lo pixelo Non dobbiamo dire il nome Non dobbiamo dire il nome No no Lo pixelo Quando siamo Oltre è un mio amico Lui è un tuo amico Eh bro Dai metti Fortnite Facciamo questo Mette il green screen Eh sì tipo André E' facile mettete un cazzo di chroma key Cazzo Mettetelo Una chiave chroma key Dai E' brutto Stai calmo Non sto calmo Beh Prima non li mette un Non è vero io li metto sempre Non rompere Non li hai messi Però io Non Io ho iniziato tipo Dall'ultimo edit Perché mi scrivo Buongiorno Ah beh tanto la vittoria reale L'abbiamo Oh 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 Così C'è un overlay Così Così C'è un overlay Della webcam Stom Buongiorno a tutti ragazzi Bene La webcam che esce fuori dall'overlittro Oggi siamo qui Insieme ad Ice Falco Ice Neo E Ice Marfa E stiamo scendendo a Pantano Palmitante Benvenuti Stiamo andando a Pantano Palmitante Son te Ho pure il suo numero Benvenuti In questo nuovissimo video L'inizio è cringe Dai Non lo so Vediamo Benvenuti In questo nuovissimo video Vediamo se magari fa qualche giro Perché 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 sia fatto con OBS Che è stata PC Per segare un altro Il cornice webcam E' preso palesimi In cellul Ovvero Tagliare un altro Io questo cornice webcam Oh ho visto un taglio Ho visto un taglio Ho visto un taglio Bro Era morto 100 di scudo Se no non sono felice Non sono felice Sono felice E' dietro Sono un piano Ragazzi Che fanno Però Si fa solo tagli Boh E si ci sta Per me è qualitoso Allora Non tanto qualitoso Però dai si Andate a iscrivere al canale di Z Andate a iscriversi Andate a iscrivere al canale di Z Fatelo arrivare ai 130 Dai Se vi invece Sto lasciate un bel like Iscrivetevi Naturalmente Vi ricordo che il mio video Insieme a lui Lo trovate qua sotto In sezione Detto questo Vi ricordo di iscriversi Se volete Il secondo episodio Naturalmente arriviamo A 25 like Lui ai 50 Scriveteci qua sotto Su Instagram Se Volete mandarci Nel canale Scriveteci su Instagram E mandateci il link E niente Detto questo Noi ci vediamo al prossimo video Ciao Grande darti Scriveteci Scriveteci